E' un clima surreale quello in cui la Rezza ha proseguito la preparazione. La trasferta in casa della Racing Roma è passata in secondo piano, così come il sempre più probabile ritorno al 4-2-3-1. La notizia della nuova battaglia legale di Mauro Ferretti non poteva passare inosservata. Stando alla visura camerale relativa all'Unione Sportiva Rezio, il 51% delle quote societarie per un valore di 35.700 euro sarebbe passato da alcune settimane alla Flowers Holding, una società con seda pistoglia e capitale sociale di 1.000 euro. A Mauro Ferretti sarebbe rimasto il 48%, mentre il restante 1% a orgoglio amaranto. Il condizionale è d'obbligo in questa vicenda perché Ferretti si è già rivolta alla Procura della Repubblica di Roma denunciando carta alla mano procedure ed episodi su cui dovranno fare luce magistrati. Nonostante la visura camerale che attesta il passaggio di consegne. Attraverso un comunicato stampa, Ferretti ha sottolineato di essere ancora oggi il proprietario dell'Arezzo, che non c'è stato alcun cambiamento nella proprietà della società, ma solo un tentativo di truffa che ha già denunciato alle autorità competenti. Al presidente Ferretti è arrivato il sostegno di orgoglio amaranto, socio di minoranza. Nel frattempo la piazza si interroga sui possibili scenari futuri del club e sulla figura di Alessandro Nucilli, a capo della Flowers Holding, imprenditore che in passato aveva provato a rilevare Parma e Monza, ma anche Sian e Pavia, prima di acquisire le quote di minoranza nel febbraio 2016 del Foligno. Due mesi dopo Nucilli passò la mano, perché impossibilitato per motivi personali, a rispettare gli impegni economici troppo onerosi ereditati dalla precedente gestione. Da via le Gramsci fanno sapere che l'azione legale intrapresa avrebbe di fatto congelato l'assetto societario, che resterebbe a questo punto invariato con a capo Ferretti. Una vicenda tutt'altro che chiara, per la quale Ferretti ha indetto una conferenza stampa lunedì prossimo allo stadio comunale. Il calcio giocato, almeno fino a quella data, passerà in secondo piano.